Si cerca di tornare alla normalità a San Martino-Vallecaudina, a distanza di due mesi dalla frana del vento alluvionale che ha lasciato una ferita nel cuore del piccolo paese erpino. In piazza 20 Settembre, gli addobbi di San Valentino convivono con le luci natalizie che campeggiano sul municipio. A San Martino, amministrazioni e cittadini non vogliono che su di loro cali la notte. L'attenzione deve rimanere sempre massima. La regione ha stanziato 700 mila euro per la messa in sicurezza della zona. Alcuni interventi di sommorgenza li abbiamo di fatto conclusi. Qualche altro già finanziato deve essere avviato e qualche altro addirittura completato. Non abbiamo discusso con gli enti sovracomunali del futuro della nostra San Martino. Non è un problema di piazza, ma credo sia necessario porre in essere un sistema di interventi che hanno una priorità, la messa in sicurezza del centro storico di San Martino-Vallecaudina. Tra questi interventi ci sarà sicuramente anche l'intervento di riqualificazione della piazza Gironomo del Balzo. Quasi tutti gli sfollati sono tornati a casa. Una trentina, quelli che sono ancora ospiti di amici e parenti, alcuni anche fuori regione. Per cui l'esigenza prioritaria da parte nostra è quella di far sì che nel più breve tempo possibile queste persone possano rientrare nelle loro abitazioni. Proveremo a organizzare un sistema di allarme che diffonderà chiaramente un messaggio di alert ai cittadini, i quali dovranno già essere consapevoli e in autonomia a ottemperare le indicazioni che noi attraverso il piano proveremo a dare. Sabato prossimo a San Martino ci sarà il Consiglio della città Caudina, ma in corso anche l'organizzazione di un altro appuntamento. Tutte le associazioni di San Martino Valle Caudina, per non far dimenticare quanto è accaduto nella nostra comunità, hanno immaginato di ricordare i tre mesi dall'evento con un flash mob che vedrà il coinvolgimento non solo della comunità san martinese, ma di tutta la comunità caudina.